Bene, siamo arrivati ai raggruppamenti. Allora, vediamo in che cosa consistono i raggruppamenti. Con un esempio, supponiamo di voler determinare l'importo complessivo degli ordini per ogni utente insieme al cognome dell'utente. Ecco, quando in una interrogazione trovate per ogni, già questo vi deve far pensare ad un eventuale raggruppamento. Vediamo la query e poi cercherò di spiegare come avviene l'esecuzione della query quando è presente un raggruppamento. Allora, per prima cosa, dobbiamo andare a inserire in Select il cognome dell'utente. Quindi, andremo a scrivere cognome. Dobbiamo calcolare l'importo complessivo degli ordini. Quindi, dobbiamo usare la funzione di aggregazione SUM con argomento importo. Quindi, troviamo il cognome e la somma degli importi degli ordini. Quali sono le tabelle coinvolte? Sempre le solite due Utente e Ordine Come condizione in WHERE abbiamo solo la condizione di Equijoin Quindi, utente.id uguale ordine.id Utente Ecco, ora dobbiamo raggruppare Perché raggruppare? Perché noi vogliamo trovare questo importo complessivo per ogni utente e non andare a calcolare la somma di tutti gli importi Per cui specificeremo su che cosa facciamo raggruppamento Il raggruppamento viene fatto sugli utenti Per cui andrò a indicare cognome Perché cognome e non id? Perché quando utilizziamo i raggruppamenti bisogna soddisfare un vincolo Il vincolo è quello che nella select possiamo avere solo funzioni di aggregazione oppure è possibile inserire gli attributi di una tabella ma solo se questi sono indicati anche nella clausola GROUP BY Quindi se non vado a inserire in GROUP BY il cognome non posso nemmeno inserire il cognome in SELECT Cercherò ora di spiegare come viene eseguita questa query Allora per prima cosa viene effettuato il prodotto cartesiano tra le due tabelle utente e ordine Avevamo già visto nella lezione 1 che cosa si intende per prodotto cartesiano tra due tabelle Il prodotto cartesiano restituisce questa tabella nella quale sono state messe insieme le righe di utente con le righe di ordine con solo quelle naturalmente che soddisfano la condizione ID uguale ID utente se ci sono altre condizioni nella clausola WHERE vengono poi applicate ma non è questo il caso successivamente viene eseguito il raggruppamento il raggruppamento sul cognome che cosa significa significa che a partire dalla tabella ottenuta con il prodotto cartesiano vengono creati dei sottogruppi sottogruppi sulla base del cognome quindi osserviamo che viene creato un primo sottogruppo per cognome rossi poi vengono messe insieme tutte le righe che hanno cognome bianchi e queste formano un ulteriore sottogruppo e così via abbiamo il gruppo 3 con cognome esposito il gruppo 4 con cognome rossi e il gruppo 5 con cognome fasolis ora per ogni sottogruppo per ogni gruppo viene calcolata la somma della colonna importo quindi non tutta la colonna importo viene presa in considerazione per la somma ma solo i valori di ciascun gruppo e la somma viene poi riportata nel record set risultante accanto al cognome per esempio il primo gruppo la somma degli importi del primo gruppo è 500 questa viene messa affiancata vicino al cognome rossi e se andiamo a calcolare la somma degli importi del secondo gruppo possiamo verificare che questa somma equivale a 4200 questo valore viene affincato al cognome del gruppo bianchi e così via per esposito la somma degli importi è 600 per rosi la somma è 300 per fasolis è 500 nel caso in cui si corre il rischio di avere omonimie possiamo andare ad aggiungere alla clausola GROUP BY l'ID dell'utente in questo modo id utente virgola cognome id utente non comparirà nel record set risultante ma ci consentirà di creare dei gruppi che sono dipendenti dal cognome ma non solo anche dall'id utente nel caso quindi ci fossero degli utenti con lo stesso cognome risulterebbero distinti grazie all'identificatore univoco id utente vediamo questo esempio conclusivo in cui utilizzeremo oltre a GROUP BY anche HAVING vogliamo determinare l'importo complessivo degli ordini per ogni utente insieme al cognome dell'utente fin qua ci troviamo nella situazione precedente ma solo per gli importi superiori a 500 che cosa significa questo che dopo aver determinato la somma degli importi per ogni utente io voglio escludere dai risultati tutti quegli importi che sono inferiori o uguali a 500 se rivediamo il risultato che avevamo ottenuto in precedenza cioè questo ci accorgiamo che ci sono solo due utenti per i quali vale questa condizione e sono bianchi ed esposito come è possibile andare ad applicare questa condizione su dei valori che sono stati calcolati attraverso la sum e attraverso un raccruppamento non è possibile utilizzare la condizione where perché il where contiene appunto delle condizioni che vengono applicate su tutta una tabella mentre noi dobbiamo applicare una condizione su un gruppo all'interno di una tabella ed è questo il motivo per cui si utilizza la clausola having vediamo come ripeto tutto il procedimento così spero che sia anche più chiaro andrò a scrivere select cognome sum import quindi vai a selezionare il cognome e l'importo per un utente usiamo anche la ridenominazione as tot ordini from le due tabelle utente e ordine where non abbiamo condizioni se non la condizione di equi join cioè utente punto id uguale ordine punto id utente raggruppiamo utilizzando la chiave primaria id e il cognome dell'utente a questo punto ci troviamo nella condizione già vista in precedenza in cui abbiamo una serie di gruppi all'interno della tabella ottenuta con il prodotto cartesiano e dobbiamo andare a effettuare un controllo del valore calcolato con sum su ciascun gruppo dobbiamo quindi imporre la condizione che l'importo calcolato sia superiore a 500 l'importo calcolato è sum importo o analogamente tot ordini per cui andremo ad aggiungere questa ulteriore condizione che ogni gruppo deve avere un tot ordini maggiore di 500 in questo modo escludiamo dal record set risultante precedente le righe che contenevano un totale ordini inferiore o uguale a 500 analogamente possiamo scrivere al posto di tot ordini sum importo a 500 o l'u o o o o o o Grazie.